Si conclude con successo Safe & Motion Sicurezza in Movimento, l'iniziativa che forma uomini e donne e soprattutto le nuove generazioni che operano in agricoltura. Sentiamo. Si avvia a conclusione Safe & Motion Sicurezza in Movimento, la campagna di sensibilizzazione realizzata da Conf Cooperative Puglia con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nato con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in campo agricolo, il Movimento si rivolge ai lavoratori e agli stessi imprenditori agricoli chiamati ogni giorno ad affrontare questi rischi. Il tema della sicurezza sul lavoro è imprescindibile. Io ho fatto questa interpretazione giusto per sensibilizzare gli operai della nostra cooperativa e per sensibilizzare ulteriormente anche i presidenti delle altre cooperative. Stress dal lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi e rischi legati all'uso di macchine agricole su strada sono alcune delle cause di incidenti più frequenti scelte come oggetto di prevenzione. E quindi il progetto vuole formare e responsabilizzare attraverso tre cortometraggi donne e uomini che operano in agricoltura. Secondo me sono molto importanti anche perché si esce anche un attimino fuori da quello che è lo schema fare il corso di formazione le 6 ore, le 12 ore prima dell'assunzione eccetera eccetera. Un video, una comunicazione, un déplian, ma chiaramente il video arriva secondo me in maniera più diretta, può rendere più reale quello che poi si fa e quindi secondo me sicuramente è più immediato, ha un effetto più immediato. Un'iniziativa partita da un'analisi qualitativa e quantitativa sulla sicurezza nelle pratiche professionali in agricoltura, rivolta alle future generazioni, ma che ha visto anche il convolgimento diretto di imprenditori agricoli pugliesi.